E' chiaro che avrei preferito stare davanti, però il secondo posto è sicuramente migliore di quanto io non abbia fatto quest'anno. Per il team chiaramente va bene, però comunque sono solo le qualifiche, la corsa è domani, dobbiamo fare un buon lavoro domani. Che ne pensi del tuo passo gara? Potrai combattere con le Mercedes? Beh, nelle corse precedenti abbiamo visto che eravamo più forti nelle condizioni di gara rispetto alle qualifiche, quindi mi aspetterei che la cosa si ripeta anche domani. Saremo comunque tutti molto vicini, dovremmo lottare e vedremo.